La mia famiglia crede in questo territorio da generazioni. Di padre in figlio ci siamo sempre tramandati la nostra tradizione. Ci piace la terra, ci piace il contatto con la natura. Trovare degli spunti nuovi per fare dei prodotti che siano unici. Ce l'ho nel mio DNA questa voglia di fare prodotti davvero eccezionali. Grazie a tutti. Grazie a tutti.